salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video allora questo sarà un video giusto di avviso ecco niente di particolare questo video voi lo vedrete il 3 dicembre lo caricherò il 3 dicembre lo sto registrando prima non me l'avete capito questo da questo tipo di format ecco sarà l'ultimo video che io registrerò qua l'ultimo per adesso naturalmente ritornerò io sono abito a crotone ormai l'avete capito la città della calabria quindi profondo profondo sud amo questa terra però purtroppo cause lavorative sarò sono costretto a stare ad andare fuori in germania quindi questo format continuerà questi tipi di video continueranno la qualità video cambierà perché non so se riuscirò a registrare con questa questa è una canon icsus che registra praticamente in 720 la qualità di youtube la 720 youtube non sono 720 effettivi c'è da dire questo però perché cambia un pochettino poi bisogna vedere anche la qualità del computer dove viene letto insomma dove viene riprodotto quindi il filmato o anche sul telefono vabbè comunque quindi questo sfondo che voi vedete potrà cambiare ad ogni modo vi terrò informati nel viaggio vi farò vedere farò dei piccoli vlog in germania che caricherò in maniera prettamente randomica sempre senza senza tagli senza editing senza musica di sottofondo senza ecco tutte le novità che stiamo cercando di portare sul canale e vi ripeto cambierò il telefono quindi registrò col telefono i primi video non registrati con un huawei p 9 light non faccio pubblicità alla huawei anche perché non avrebbe senso fare pubblicità alla canon e alla huawei anche perché è un canale piccolino il mio mi prenderò però sempre un altro huawei perché a livello di fotocamera mi sono trovato benissimo anche a livello di qualità però sarà un p 30 mate quindi la qualità sarà molto più elevata non lo so ecco non lo so come reagirà sul sull'editing ecco su non sull'editing sul quando caricherò sull'upload di youtube non so che perderà quanto perderà quindi era semplicemente per dirvi questo lo sfondo cambierà gli argomenti pronto consumo ce ne sono tanti veramente da dire perché posso parlare dei piatti dei bilanciali olimpioni ma mi tengo un pochettino di argomenti da caricare in seguito voi questo video lo vedete lo vedrete praticamente il 3 però io ho caricato registrato altri video qua ormai l'avete capito e quelli vanno praticamente in automatico con il con la programmazione di youtube quindi ufficialmente il 3 dicembre è l'ultimo video che io caricherò che registrerò qua ok tutto quello che vedrete più avanti sarà sempre registrato qua ma saranno video antecedenti a questo ok il discorso un pochettino complicato però ragazzi fidatevi lo capirete meglio dai video che arriveranno in seguito già dicembre stesso ok ragazzi spero di essere stato chiaro purtroppo ogni tanto devo dare questi avvisi perché abbiamo caricato abbiamo con davide il ragazzo dell'editing abbiamo veramente registrato tanto il lavoro è veramente tanto e tantissimo veramente quindi devo spiegare più o meno quello che succederà anche perché se voi dite ma come prima c'è uno sfondo poi c'è un altro ci sono le luci abbiamo guardato la luce ci sono le luci diverse quelle sono bianche queste gialle c'è un'altra un altro video che ho registrato proprio in un altro posto totalmente insomma ragazzi le novità ci sono però era semplicemente per dirvi che oggi 3 dicembre mentre tu stai guardando questo video io video io molto probabilmente sarò in viaggio o sarò già arrivato in germania quindi dove inizierò una nuova vita oggi quindi questo è l'ultimo video che che registrerò qua non ne registrerò più mi fermerò a meno che non lo so non mi prendo qualche cosa ma perché così l'ho un po di genio ma ne dubito a dicembre caricherò qualche altro format qualche altro tipo farò vedere dove mi trasferirò e farò vedere un pochettino alla città e cercherò di portarvi qualche qualche impressione anche del viaggio perché io naturalmente starò a colonia come al solito i lavori nelle case vicine ci sono sempre io starò a colonia però viaggerò tanto e vorrei portarvi qualcosina giusto per farvi vedere dove insomma che tipo di vita conduco a molti non fregherò un cazzo ma a me che cazzo me ne frega che non ti frega un cazzo niente quindi bene ragazzi ci vediamo quindi in germania buon allenamento da in sport ciao